Ciao a tutti ragazzi, come state? Benissimo! Sper l'idiote è qua con me! HA! HA! Sire! Io sono la guardia del corpo! PUM PUM! Li sparo a tutti! PUM 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 PUM! HA HA! Vi vedo! Villici di Crash of Clans, non potete... Cosa c'è Sire? E poi non te ne andate un attimo. Perché Sire? Sire, la guardia del corpo? Ragazzi, ma venite conto che cosa sono? Sire! Attenzione Sire! Io devo subire questo tutti i giorni adesso! PUM 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 PUM! È sempre così! Aiutate! Bastardi! Bastardi! Come si ricarica? Sire! Si! Stai ricaricando! PUM 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 PUM! Perché voi pensate che stia facendo questa cosa qui perché fa il video del... PUM 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 PUM! Per favore, sottoscrizione pubblica. Compriamo un cervello a Taylor. Serve veramente... LA SPA DEL CORPO IN MARE! Sire, lei è sempre più nobile ultimamente! Cos'è? Cos'è? È sempre... È sempre... A META E' IL TENTO! Cos'è quel monocolo? È un monocolo? Sì, ma cosa le serve? Per vederci meglio! Ah... Per fare gli attacchi meglio effettivamente le dici... Questo è un barbaro a livello 7! Certo, vado lì! Mi dica, cos'è questa truppa? Aspetta, cos'è questo? Beh, si vede benissimo che è un mago! Un mago? Che ti... È un mago pregiato? È un mago nobile! Vedi che... È un mago nobile! È molto nobile! Guarda, guarda, anche gli occhi sono dorati! È tanta nobiltà! Quindi sono un mago di livello 7! È tanta nobiltà e maestosità! Ma quindi oggi un villico l'ha chiesto di fare la tecnica... quella che usa quando vuole sentire il silenzio? Sì! Esatto! Quindi cosa consiste questa tecnica? Sì, consiste nell'utilizzare delle truppe ben specifiche! Quali? Quodeste! Allora, S di stregoni! S di sgherri! S di streghe! S di salto! S di salto! HH! Perché sta per healer e heal! Quindi cure e curatore in italiano! Benissimo, con gli eroi! Heal e healer! Heal e healer! Silent heal vuol dire? No! Heal e collina ma... Heal! Heal! No! Heal! Heal! Heal e healer! Heal e healer! Scusate, fammi la differenza tra heal e heal! Heal e cura! Heal e collina! Capite perché gli inglesi sono dei coglioni? Cioè, comprendete? Sono degli idioti! Cioè, si! Ma guardi che colpito! Heal! Uh! It's John Cena! Subito così! Purtroppo no! Un 8! Beh, però scusa eh! Non è proprio un granca di villaggio eh! È una merda! Sì, grazie! Cioè, potrei farcela? Beh, dice! No! Ci provo! Vabbè, ci provi! Dai! Facciamo un cento per cento da questo villaggio! Proviamoci! Proviamoci! Allora, come vuole attaccare? Allora, subito! Questo lato di qua perché non ci sono... Ah! Le difesere! E butta giù la difesera! Questa qua è in costruzione che non ha un problema! Aspetta! Io adesso faccio così! Ok, butta l'assalto! Butta tutti i maghi! Attenzione ai bomboni quando fa così però eh! Ah! Ok, butta il curatore! Il curatore, subito! Il curatore! Idioti! Cosa c'è? Che non sono entrati? Adesso vanno! Ma che stupidi, è vero? Eh! Sì, Re! Mi sa che quei maghi devono essere puniti in qualche modo! Ma io vi faccio riuscire da morire! Ma no, guarda! Non ci credo! Quei maghi hanno buttato giù! Il Re Bavaro da soli! Boh! Ok, streghe! Eh! Boh! Ma perché c'era il curatore? Cosa c'era il mortaio! Stupido curatore! No! Truppe del clan! La veleno! La veleno! Ok, perfetto! C'è 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 c'è! Ok, ma gli sgari attaccano le truppe? Vediamo! Spero di sì! Eh! Sì, a quanto pare sì! Bene! Ok, la cura, la veleno ha funzionato! L'ha rimasto solo un mago eh! Aspetti, qua! Tutti i maghi sono morti! Perché il curatore non li ha curati? Perché è stupido! Oh! E non ha esplosito nessun bombone! Stupido! Stupido! Attenzione alla... Alla... Difesa aerei nato! Beh, il consiglio di buttarla giù su in tutta la difesa! Esatto! Così quella difesa era lì, va giù! Gli sgari sono liberi! Sono liberi! Cioè dai, no! La strega è morta! Quale strega? No, 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 no! No, ma ancora sei streghe da autorizzare! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no, no! Che stupidi che sono i curatori! Stanno curando le streghe che sono a piena vita! E non i curatori! Ma perché? Allora, aspetta! C'è... In effetti c'è l'arcere che sta sparando la strega e non gli scheletrini! Bastarda di arcere! Bene, bene! Bene, bene! Ce l'ha fatto! E adesso vorrei che... No! Cosa c'è? No! Prendete gli scheletrini stupide! Eh, aspetta! 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 Vedi tanti non muoiono perché quelle streghe lì sono super curate da due curatori! Questo è il problema? Quello è il problema! Quale? Questo! Ma non c'è il problema! Adesso va giù perché c'è la regina lì! Ma no, no! Vedi adesso ne vengono distante! Oh, cazzo! Il canone ha preso di mira la regina! Mi sa che la regina va giù perché non ha anche più la furia! Vedi se il curatore ha da sacurare la regina! Ma che vado la gemmiamo dopo dai! Che cosa? No! La regina? Ma ragazzi! Stavano i reali! Stavano i reali! Ma adesso butta le streghe! Vado tutto adesso! Così a caso! E andava a detenerle lì! Vedi che una strega è morta alla fine lì! Due curatori! Due curatori! Guarda guarda guarda! Ecco qui adesso le streghe stanno andando avanti! Guardate la massa di scheletrini affucinante! Adesso vedrete questa massa di scheletrini che scompaiono! Dove sono gli curatori? Lei che cura le scheletrini! Brava! Brava curatore! Brava! Bravissima! Bene così! Adesso buttiamo giù quella difesa aerea! Sicura difesa a zona! Ed è fatto il 100% maestoso dovrei dire! Maestoso! Cioè ragazzi io! La tecnica... Funziona! Cioè questo mei... Non avevo neanche dovuto provarla prima! Adesso questo mei del clan shadow clan... Copierà sicuramente la tecnica... Ma soprattutto... Starazzo per tutto il tempo! Silenzio! Giammiamo le truppe! Adesso... Giammiamo le truppe! No! Mi sono reso conto di una cosa importante! Cosa? Potrei fare qualcosa! Ho 4 milioni di oro! E cosa potenziare? La Tesla? Lei poi... Va bene! No! Veramente volevo potenziare anche le Tesla! Ok! Allora... Ok! Perfetto! 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 Io l'ho forse di farciere quello che è... a distruggere lo sgherro e l'altro sgherro di sgherro e sgherro di 4 caparne di prototoni... Esial posto! Evitiamo che vada di giro per il ca-zi suo! E se la prossima obiettiva è il volano... Ovviamente voglio che lasciate 8 mila mi piace per questa super tecnica! Super... HOTO! Super hot! Guardate! Ha il volano girato dall'altra parte! Ha il volano girato che spinge le... Le truppe! Super! Oh, oh! Guarda quant'ora gli sgherri! No! Ma morto! Merda! morto no ma perché attacchi secondo me se lei riesce a mettere l'assalto bene qua entrano sia qui che qui i villaggi e non ci arrivano però l'assalto non ci arriva le conviene attaccare dal basso vada lì con l'assalto in mezzo lì vada perfetto perfetto si reputi subito i curatori tutti e due i curatori ora le streghe le streghe le streghe che mandano avanti tutte le tutte le cagatine perche vede che adesso entrano tutti gli scheletrini vede gli scheletrini entrano tranquillo si è tranquillo si sono morti in tanti ma sono morti per la patria guardi che adesso quelli quelli quel mago li viene curato e le truppe le difese sparano gli scheletrini i maghi anche sono due o tre buttano giù tutto cazzo devono buttare giù però la difesa era quello che mi preoccupava e bombo la butta però qua le streghe allora si vede anche le streghe e vedi che adesso le scheletrini buttano giù la difesa era perfetto cazzo no la cura sul curatore non so se basta non basta più non la metta non la metta non basta ok come non la molla cosi sono i mortali gli scheletrini guardi anche la quanti scheletrini ci sono mago vivo guardi un mago solo che ha appena buttato giù il municipio perfetto bene 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 adesso quel mago li sta andando a buttare giù il deposito qua magari entrano di qua loro bombone attenzione è morta un'altra strega quelle streghe sotto li sono delle stupide allora adesso praticamente il bacco le streghe stanno andando avanti buttano giù la tesla perfetto buttano giù la mia propria però no non ho vinto eh sì bisogna essere attenti ai bomboni allora secondo me non so se ce ne sono ancora guardi guardi il mago che basta butta giù quanta ma avrà meno butti una veleno sul cannone anche se non serve veleno 8 mila mi piace per la veleno sul cannone che appena ha ucciso il mago ma chi se ne frega perché ci sono 8 mila scheletrini quindi ragazzi io mi trascendo tantissimi mi piace se ci posco il dubbio sì ho gemmato sì ma è chiaro ho gemmato le truppe guardi e tanti miei mi piace per il manopolo di rinnegan che deve guardare bene chi sta attaccando aspetta siamo evoluti cosa oddio vuole potenziare a 9 mila mi piace quindi resta sbloccando la fabbrica degli incantesimi attenzione la portiamo subito a livello 5 e il sire per voi e solo per voi prende la rincorsa con corona e manopolo sta arrivando e clicca sul potenziamento e la gelo fra esattamente 6 giorni arriverà per voi solo per voi un attacco full gelo quindi ragazzi full gelo quindi ragazzi full gelo full gelo ciao a tutti al prossimo video